Il Benevento programma la nuova stagione. Il club del presidente Vigorito, dopo la conferma di Mr. Auteri, si è messo subito al lavoro per preparare un campionato che le streghe dovranno disputare da protagoniste insieme ad Avellino, Catania e Cortone. Insomma, le solite note che nella passata stagione hanno ceduto il passo però alla sorpresa Juve-Stabbia. I giallorossi nel frattempo hanno annunciato due delle tre amichevoli che si terranno durante il ritiro romano. Domenica 21 luglio alle 17.45, Benevento contro San Giorgio del Sagno presso il Mancini Park Hotel. Domenica 28 luglio alle 17.30, Benevento contro Roma City. Da definire la terza amichevole con data 3 o 4 agosto. E poi ovviamente c'è il mercato a tenere banco. Il direttore sportivo Marcello Carlialle prese con una doppia trattativa con Rimini. Obiettivi dichiarati, i due migliori attaccanti della società bianco-rossa, Morra e Lamesta. Per il primo ci sarebbe una clausola rescissoria di 80.000 euro che il Benevento al momento non ha esercitato, preferendo tenere vivi i rapporti con Rimini e provando a trovare una soluzione con la società romagnola. Per Lamesta invece, in scadenza di contratto l'anno prossimo, è chiaro che la società bianco-rossa non potrà pretendere una cifra troppo elevata. D'altro canto, il Benevento ha già trovato accordo totale con l'entourage di entrambi i calciatori. E la fumata bianca sembra solamente questione di tempo sullo sfondo. Sempre Jacopo Manconi del Modena bomber nel mirino di Carli, ma anche in questo caso non sarà una trattativa veloce.